Ah, pronto, ciao Marta, come stai? Dai, guarda che bella giornata oggi, ci sono gli uccellini, possiamo andare al mare? Come? Ah... Ah, merda, no... Va bene, ciao, ciao... Ah, ciao Margherita, sono benissimo, quello ti ricordi di... Ah, ok, perfetto, Margherita, andiamo in piscina magari oggi... Ah, no? Ah, va bene, allora facciamo un'altra volta... Eh, pronto mamma, ciao, eh, eh, sì, sì, tutto bene, ascolta una cosa, ma oggi cosa fai? Magari ci possiamo vedere, facciamo due chiacchiere, prendiamo un caffè insieme... Com'è da fare anche te? Ah, devi giocare a carte con Marisa... Eh, guarda, 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 guarda... Spettacolo... Ah...